Abbiamo montato una giornata di ieri e stamattina sono su che li calibrano degli strumenti molto sofisticati, sono degli interferometri, è un radar doppler il cui scopo principale è di mandare degli impulsi, delle onde elettromagnetiche e in base al ritorno di queste onde si riesce a capire quali movimenti possono esserci in tutto il fronte del seraco, della parte rimanente della calotta. Chiaramente il problema grosso sarà tarare le soglie in base alle quali scattare l'allarme perché chiaramente il crollo poi quando avviene avviene immediatamente. Quanti secondi hanno i soccorridori? Abbiamo calcolato che potremo nella parte più lontana avere fino a un minuto di tempo.